Novità per quanto riguarda i quadri del Lanci, il sindaco di Lacquameno Giacomo Pascale entra a far parte del Lanci, in quale ruolo? Io sono onorato di aver avuto il ruolo di componente del direttivo in Campania, quindi ringrazio gli altri sindaci delle isole minori nostre, Capri, Anacapri, Procida e i cinque comuni dell'isola d'Ischia che mi hanno assegnato questo ruolo. E arriva il comune di Lacquameno, tra virgolette, in questo direttivo dopo tuta i race. In passato noi abbiamo avuto solo tuta nel direttivo. L'Ancim è importante perché l'associazione, diciamo, che è bene può interloquire con i ministeri competenti per ottenere quei provvedimenti di cui le isole hanno bisogno, a partire dalla sanità, dai trasporti, nel nostro caso del tribunale di Ischia che si parla sempre di chiusura o di proroga. E praticamente svolgerò il ruolo mettendoci l'impegno necessario. Spero che i risultati poi possano, diciamo, almeno soddisfare in gran parte chi mi ha accordato fiducia. Ecco, c'è anche un altro sindaco dell'isola che fa parte dell'Ancim, giusto? Sì, c'è il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, che anche lui come me è stato votato anche dalle altre autorità delle isole minori d'Italia. Lui assume il ruolo di vicepresidente. È una carica, come ripeto, è una carica importante. Io spero con Francesco Del Deo di poter insieme portare in sede Ancim le voci, la voce e le esigenze e i bisogni della nostra isola di Ischia, ma soprattutto di tutte le isole minori che sostanzialmente vivono gli stessi disagi.